Nel 2002 inizia la sua carriera teatrale con musical Un sogno da vivere. Prosegue con audizione musical nel 2003. Il Vicolo nel 2004, Il Prezzo del Coraggio nel 2005 e Charlie, Altro che Beautiful, nel 2006, fino ad arrivare sul palcoscenico dell'Arena di Verona con l'opera popolare Giulietta e Romeo di Riccardo Cocciante e Pasquale Panella. Dove ha interpretato la protagonista femminile dal 1 giugno 2007 al 29 febbraio 2008 condividendo il ruolo con altre tre attrici. Nel 2004, fa la sua prima apparizione televisiva nella quarta stagione della serie TV Medico in Famiglia. Nello stesso anno partecipa, in qualità di cantante ai raccomandati. Trasmissione condotta da Carlo Conti. In cui duetta con Paolo Vallesi. Nel 2007 debutta al cinema. È nel cast del film Come tu mi vuoi. Il 19 marzo 2008 debutta con il nuovo musical High School Musical. Lo spettacolo nel ruolo della protagonista Gabriella Montez. Nel 2009 è impegnata nuovamente con un musical. Il mondo di patti. Il musical più bello. Il mondo di patti. Nel ruolo delle due gemelle Sol e Belen. Sol si trova nelle popolari e Belen nelle divine. Nel 2010 partecipa al reality messicano la Accademia Bicentenario dove è la quinta eliminata. Nello stesso anno pubblica il suo primo singolo I Giusevanna Bay With You. Inoltre è una delle protagoniste del film Il mondo di patti. La festa di patti. Nel 2012 ha interpreta il ruolo di Giulia nella serie TV di Mediaset e Benvenuti a Tavola Nord vs. Sud. Ruolo riconfermato anche nella seconda serie. Nel febbraio 2012 partecipa la Competition International del 53esimo Festival Divina del Mar. Vincendo il primo posto. Con il brano Grazie a te. Pubblicato come singolo anche nella versione spagnola. Nel 2013 entra nel team di Raffaella Carrà a The Voice of Italy. Prima edizione. Dove viene eliminata il primo girone della fase battle.